Le autorità della Grecia hanno annunciato l'adozione di restrizione in tutto il paese nel tentativo di combattere un'epidemia virale che minaccia l'industria zootecnica nazionale. Un focolaio di peste uvina e caprina, malattia nota anche con la sigla PPR, è stato individuato per la prima volta l'11 luglio nella regione della Tessaglia, nella Grecia centrale. Si tratta di una patologia altamente contagiosa per gli animali, ma non viene trasmessa agli esseri umani. Il ministro dell'agricoltura, Costa Ziaras, ha imposto un divieto di circolazione di capre e pecore su tutto il territorio nazionale per limitare la diffusione della malattia. Finora la Grecia ha confermato 22 casi, di cui 20 in Tessaglia, nella Grecia centrale, uno a Corinto, nel Pelo Ponneso e un altro in Attica. Secondo le linee guida dell'Unione Europea, tutti gli animali delle unità affette devono essere abbattuti, seguiti da disinfezione e quarantena per i capi a rischio. Sono stati abbattuti oltre 10.000 esemplari da quando è stato rilevato il primo caso a luglio e altri 2.000 dovrebbero esserlo a breve.